Si svolgerà dal 28 al 30 luglio al Santuario di San Gabriele della Dolorata la 43esima edizione della Tendopoli a presentare la tradizionale manifestazione Padre Francesco Cordeschi, ideatore e anima dell'evento. Il tema che affronterà la prossima Tendopoli sintetizzato nello slogan Spicca il volo è un invito rivolto ai giovani. Anche nel preparare questa Tendopoli abbiamo notato la difficoltà di porre in ascolto questi ragazzi. Trovano molta difficoltà a fermarsi e a riflettere. Il loro mondo è chiuso proprio dentro il cellulare. Non a caso il professore che verrà a Ceti parlerà proprio di questo tema, parlerà della necessità di uscire dall'abitazione telefonica, dal telefono che è diventato un'abitazione, di uscire e incontrare le persone, relazionarsi agli altri. Come da tradizione saranno diversi gli eventi organizzati durante la tre giorni. Povia e poi ci sarà anche questo professore Ceti, il nostro padre provinciale appena eletto, ma la cosa principale è che questa Tendopoli abbiamo cercato di aprirla anche alle famiglie, perché il professore Ceti parlerà proprio anche alle famiglie di questa necessità di una relazione, di relazionarsi tra ragazzi e genitori per un mondo migliore. Un evento che rappresenta per molti giovani e non solo un appuntamento fisso che si ripete oramai da tanti anni. È un momento in cui ci si ricrea, è un momento in cui si riflette su se stessi, si fa condivisione e comunione con gli altri e si cresce. Quindi è una grande esperienza di vita che aiuta poi a gestire anche i problemi che comunque nella vita quotidiana ci sono e riesce a riempire il cuore di ognuno di noi e ci fa poi rincontrare e stare bene. Come ogni anno il Consorzio BIM supporta con entusiasmo e convinzione questa longeva manifestazione. Volevamo ridare vitalità a questa iniziativa, grazie anche a Padre Francesco e a tutta la comunità di San Gabriele. Il BIM c'è stato sempre, ci sarà, anche perché abbiamo nei confronti dei giovani qualcosa da dare in più. Per cui saranno dei giorni di spiritualità, di commozione e di ripresa anche a livello culturale, sociale e religioso. Inoltre, come da tradizione, il 5 agosto si svolgerà il pellegrinaggio Teramo San Gabriele, evento giunto anch'esso alla 43esima edizione.